salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video e oggi con che cosa siamo non più con le moto ma il modellismo ragazzi qui abbiamo una Tamiya TT02 scala 1 a 10 ho anche una bug in scala 1 a 8 della Mugen un MBX8 oggi siamo sfida già di modellismo visto che il 14 gennaio ci sarà la gara Porsche Cab questa è la stocca di Jacopo che erano coperte roba ad alto livello ragazzi qua eh niente adesso abbiamo provato praticamente i trascinatori da 7 mm però non mi ci trovo molto bene adesso ho rimesso quelli da 5 mm come all'anteriore e vediamo un po come va il nostro tarpatore a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.